Il tema più rilevante di Expo secondo me è l'alimentazione sana. Mi riguarda, mi tocca da vicino perché solo con i grandi prodotti di qualità si può comunicare e fare grande cucina e soprattutto una cucina del benessere. L'impronta milanese nella gastronomia è, direi, importante ed è diventata ancora più importante in questi ultimi anni. Sicuramente con l'inizio di Expo ci sarà una grande rivalutazione di alcuni piatti tradizionali che verranno alleggeriti e riproposti in una chiave più moderna, quindi più elegante e più gustosa. Io direi che più che l'alimentazione che si sposa con la sostenibilità, direi che ci sarà sempre di più un'agricoltura sostenibile. Il mio cibo preferito, tutto ciò che è buono e sostenibile. Ho un ricordo di un piatto legato a casa mia, di questa torta di pane con mela e fichi secchi.